Salve a tutti amici, oggi vediamo 5 invenzioni che molto probabilmente non conoscevate ma che cambieranno forse il mondo. Exoskelet di Hypershell. Si tratta di un esoskeletro capace di alleggerirci il carico che trasportiamo fino a 30 kg in meno. L'autonomia è di oltre 25 km e grazie a lui potremo goderci le camminate in montagna e lo sport senza preoccuparci eccessivamente nel peso che portiamo. Questo progetto su Kickstarter ha raccolto estremamente di più di quello che si aspettava, non vediamo quindi l'ora di vedere in azione l'esoskeletro di Hypershell. Una volta in commercio costerà 599 dollari. Myro. Pitturare i muri è un lavoro lungo e faticoso, e se potesse farlo un robot? Eccoci accontentati. Myro è un macchinario capace di dipingere le pareti al posto nostro. È in grado di rilevare le finestre e gli angoli, per cui prima analizza e poi agisce. Inoltre se ci sono degli ostacoli si ferma, evitandoli fare disastri. Questo robot sarà sicuramente uno dei migliori amici degli imbianchini, non credete? Dronat X1. I droni sono ormai scesi di prezzo e in molti li utilizzano per realizzare splendidi filmati dall'alto. Ma questo è particolare. È una versione civile di una tecnologia militare, fino a poco fa venduta in esclusiva per tali scopi. Questo drone birotore studia tutto l'ambiente circostante e si occupa di sorvegliare gli edifici e fare ispezioni. Dronat vola da solo, non è richiesto addestramento. A noi spetta solo il compito di dargli degli ordini. E la cosa più importante è che è estremamente sicuro. Può volare vicino alle persone e agli oggetti senza rischiare di danneggiare nulla. Tuttavia, le collisioni non sono un problema per lui. Il segnale rimane stabile fino a un chilometro, ma tutto questo ha un costo. E che costo? Si parla di 9.800 dollari, per cui non è qualcosa che puoi regalare facilmente a tuo figlio per il compleanno. Body Wash Plus. Finalmente parliamo di qualcosa di economico. Questo bagnoschiuma è particolare perché viene venduto in fogli. Questi si sciolgono in acqua e rilasciano il sapone. Metodo intelligente perché in questo modo risparmiamo sugli involucri. Testy Tape Quante volte vorremmo servire del cibo tenuto fermo da qualcosa, come un burrito? Testy Tape si comporta come un nastro adesivo, solo che è commestibile, non lascia scarti e soprattutto non ha sapore, non influenzando così il sapore del piatto. Questa invenzione è stata realizzata da alcuni studenti di ingegneria, ma ha subito colpito diverse aziende, per cui presto potremo vederlo in vendita. E queste erano 5 invenzioni incredibili. Sapevi che esistevano? Un saluto!